Avete visto il nostro calendario? Bellissimo, rappresenta tutti noi dentro quel calendario, dentro quei 12 mesi, quindi compratelo e sarebbe un'offerta per i nostri cuccioli. Certo perché noi non lo vendiamo, ma chiediamo un'offerta che copra almeno le spese di spedizioni e le spese di stampa. Abbiamo fatto questa scelta, l'anno scorso abbiamo raccontato un po', abbiamo utilizzato le immagini dei cani adottati, degli adottanti, abbiamo un po' raccontato le partenze, invece quest'anno abbiamo pensato di portarvi all'interno del nostro rifugio. E quindi in questi 12 mesi abbiamo scelto non delle fotografie, ma abbiamo estrapolato dei fotogrammi che ci sembravano significativi, dei nostri video, che vi abbiamo un po' portato in camera nostra a gennaio, perché loro vengono sempre, tanti ne vengono a casa con noi. Vi abbiamo portato qui nel rifugio, vi abbiamo portato nel furgone, vi abbiamo portato su quel torrente e vi abbiamo permesso di condividere anche le emozioni così grandi come gli occhi di Hope. Per noi quella era l'inizio della rinascita, perché Hope sta bene ed è stata curata e lì era proprio il primo momento di contatto con lei. Per noi è stato un momento molto importante, come anche la gabbia trappola e la salvezza dei piccoli di Bice. In quel momento stavamo mettendo lì nella gabbia trappola e stavamo mostrando a mamma Bice i piccoli che si trovavano fuori. E anche lì è stato l'inizio di questo nuovo percorso di salvezza. Ci è sembrata un'idea diversa, comunque una nostra idea, speriamo che sia apprezzata da tutti. Invece di fare il solito calendario con i soldi visi di cani, questo calendario d'azione, perché sono fotogrammi estrapolati dai nostri video, vi abbiamo voluto coinvolgere. Speriamo che vi piaccia e qualora lo vogliate ordinare sappiate, sul numero whatsapp che avete letto di Loris, sappiate che per noi sarebbe un grande aiuto in questo periodo in cui stiamo cercando di arrivare alla fine dei lavori. Sì, quindi aiutateci a far giurare questo video e aiutateci a condividere e a far camminare questo calendario per i nostri cani. Una cosa io personalmente voglio dire, voglio diffidare che chiunque utilizzi le nostre immagini screenshotando delle fotografie e facendo il verso, non è autorizzato nessuno sulla nostra pagina a screenshotare e utilizzare le nostre immagini. Soltanto si possono condividere ai fini della diffusione dei video e soprattutto della diffusione degli appelli di adozione. Tutto il resto sarà perseguito perché non ci piace che ci fai verso. Grazie a buon interditor, poche parole. Ciao.